A confronto le due piatte, facciamo parlare i due sindaci, è giusto che uno ne accolga e uno non ne accolga per niente? Che ne dice Morelli di quel che ha detto la rotta e poi voglio sentire il senatore Gasparri, che dice? Che è una boiata, che purtroppo siamo di fronte a persone che mentono sapendomi mentire, perché sappiamo perfettamente quali sono i dati e i dati ci dicono che le tante persone che sono arrivate in questi anni in Italia sbarcando a Lampedusa o peraltro portate dalla Marina Militare, per la stragrande maggioranza non stiamo parlando di profughi, ma di personaggi che 100 mila solo l'anno scorso, e questi sono dati ufficiali del Ministero dell'Interno, sono completamente spariti. Degli altri 40 mila che hanno fatto la domanda per accedere allo status di rifugiato, neanche il 30% ha ricevuto il sì allo status di rifugiato. Quindi ma di cosa stiamo parlando? Ma alazzate, come ai tanti altri paesi, dobbiamo ficcare dentro i soliti clandestini a 35 ore al giorno colazione pranzo e cena.